Mi chiamo Angelo Iacubino e sono un project manager del Dipartimento di Informatica dell'Università dell'Insubria di Varese e Como. Mi occupo di sviluppo software in ambito mobile per iPhone e iPad e in ambito social mobile per reti sociali tipo Facebook e LinkedIn e simili. L'intervento che è stato posto qui a SMAU riguardava appunto lo sviluppo di applicazioni per iPhone e iPad in ambito business, in ambito pro, quindi non solo per un aspetto hobbistico, per un aspetto ludico, ma soprattutto rivolto alle aziende, come rendere possibile pubblicizzare il proprio brand mediante applicazioni di questo tipo. Inoltre sono state date delle indicazioni di massimo su come sviluppare queste applicazioni dando degli esempi di codice sorgente. Ricordiamo che dispositivi mobili tipo iPhone e iPad stanno riscuotendo un notevole successo anche nel nostro paese, oltre che all'estero, e i dispositivi venduti superano ormai parecchie milioni di unità. Le applicazioni presenti in App Store sono più di 250.000, di gran lunga superiori a quelle disponibili per altre piattaforme, tipo Android o Nexus o altre tipologie di piattaforme mobili. Lo sviluppo di applicazioni per questi dispositivi in ambito italiano ha necessità di un incremento di professionisti che vogliano cimentarsi nello sviluppo per questi dispositivi. Le consulenze fatte in questi settori sono ancora minime in Italia, perché non tutti capiscono ancora le potenzialità di questi nuovi oggetti presenti sul mercato. Non bisogna dimenticare che queste applicazioni sono importanti e sviluppabili a livello mondiale e le interazioni che l'Italia ha con gli altri paesi non è da sottovalutare, vista la globalizzazione in ambito tecnologico che ormai è presente ovunque, sia a livello europeo e sia a livello mondiale, verso gli Stati Uniti soprattutto, o gli Stati indiani anche, emergenti ma molto importanti. Ringrazio per questa opportunità, i miei contatti li potete trovare sul sito di SMAO e vi ricordo io sono Angelo Iacubino. Grazie.